Insieme a Michela Mercuri, docente della Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali di Roma, facciamo il punto della situazione in Libia. Francia e Italia, gli interessi dell'una e quelli dell'altra. La Francia sta rischiando grossi a un avviso in questo momento. L'Italia, d'altra parte, ha invece gli interessi divergenti rispetto a quello francesi. L'Italia ha gli interessi a Tripoli. Ricordiamo infatti che l'Eni estrae il 70% del petrolio che ricava dalla Libia, proprio dalla zona di Tripoli. I migranti partono tutti da Tripoli e quindi è chiaro che l'Italia fino a questo momento ha sostenuto Sarraj o comunque gli attori dell'area di Tripoli. I francesi invece chiaramente sostengono Aftar perché hanno interesse a vendere gli armi, ma soprattutto perché hanno interesse ad allargarsi nelle zone controllate da Aftar, soprattutto nella Sirtica, che abbonda di petrolio. In ogni caso, non solo Italia e Francia. Chi sono, secondo lei, gli altri attori? Da un lato sicuramente abbiamo l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti che supportano il generale. Ricordiamoci che lo scorso 27 marzo il generale è andato a Riyadh per discutere con Riyadh della stabilizzazione della Libia. È probabile che in questo caso Riyadh abbia dato in qualche modo il placiat, ma non soltanto il placiat, direi anche dei soldi ad Aftar per poter poi proseguire nella sua avanzata verso Tripoli. I sauditi hanno interesse infatti ad allargarsi in tutta la Libia anche per motivazioni di ordine religioso, non soltanto per motivazioni di ordine egemonico e a contrapporsi alla fratellanza musulmana tripolina che a sua volta però è sostenuta dal Qatar e dalla Turchia. Ricordiamoci che qualche tempo fa dalla Turchia verso Tripoli è arrivato un carico di armi importanti. Quindi è chiaro che ci sono degli sponsor regionali, soprattutto regionali, che in questo momento comunque stanno combattendosi una guerra per procura in Libia e questa guerra, ripeto, a bassa intensità, disfinimento come vogliamo chiamarla, non credo cesserà finché questi attori regionali non riusciranno comunque a trovare un accordo o vorranno continuare comunque a finanziare le forze in campo. Quindi comunque dovremo continuare...